Siete dei maghi veri? Eh, spieghiamo perché sono dei maghi veri, perché si chiamano i Desert Wizard Ah, e ce l'ha il trucco Ecco, ci mancava un... Ah, vieni qua Io ti cedo, ti cedo... No, c'è la sedia Eh, ma infatti mi metto io in sedia, non ti preoccupare Massimo Perché Massimo, insomma, questi ragazzi li conosce molto bene E quindi intanto iniziamo da questa storia Come vi siete conosciuti? Come ci siamo conosciuti? Come ci siamo conosciuti? In bireria No, so che una volta alla Black Widow giunse un demo Giusto? Un demo che, se non sbaglio, è stato uno dei... Witchwood Ecco Eh, sì, mi ricordo anche il messaggio Forse ti piacerà Massimo L'ho ascoltato Mi è piaciuto C'erano delle cose che mi piacevano di più Altrimenti ne abbiamo parlato E la cosa mi sembra che sia andata abbastanza avanti, no? Eh, fino... Quanti dischi abbiamo fatto? Eh, questo è il terzo Questo è il terzo Allora, eh... Questo invece è il secondo? Eh? Raven 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 Un buon disco Però avete raggiunto il massimo Eh? Ve ne parlavamo anche prima Con questo qua Ecco, questo è il vostro ultimo disco Con copertina clamorosamente psichedelica Guarda un po' Eh? E qui avete raggiunto proprio il massimo della vostra maturità, secondo me Perché è un disco rock È un disco molto psichedelico Ed è... Si sentono le influenze I Pink Floyd Soprattutto direi Però c'è anche Moltissima Vostra personalità E questo è importante Voi siete Siete consci Di aver fatto un gran lavoro Beh, grazie Innanzitutto Buonasera a tutti Beh, diciamo che Ci abbiamo messo del nostro impegno E col passare degli album Il lavoro si faceva sempre più Un po' raffinato Nelle sfumature Nei suoni Nel contesto in generale Eh, insomma A noi ci piace Siete soddisfatti Noi siamo soddisfatti Il disco sta andando molto bene Devo anche dire La band l'avete presentata Si sono presentate Presentate Presentatevi un po' allora Anna Alle tastiere Io sono Marco Basso e Voce Io sono Silvio La batteria Marco Chitarra Lo sai che questa ragazza qui È anche una modella? No Sì, sì, sì E te lo dimostro Guarda Eccola qui Eccola qua Appare in un'altra Nostra produzione Vedi lei Anche di qua Che cosa avevate In una palude Dove eravate? Palude Marina Romea Palude Marina Romea Ti è piaciuto fare sta cosa? Sì, molto molto Ecco, questo è un disco fortunatissimo Perché è la terza ristampa È andato veramente forte Non siete voi però C'è anche un po' di te Sì Ecco È stato molto bello lì Allora Ultimamente Avete suonato dal vivo Di qua, di là Da qualche parte Avete attività Come vanno i concerti? Il risponso del pubblico? Beh Diciamo che Più che altro Battiamo Fra virgolette Un po' la nostra zona Perché è quella che Con le scienze Riusciamo a raggiungere A raggiungere Più facilmente E Abbiamo suonato Che non è Insomma Stiamo suonando Abbiamo una data Anche la prossima settimana E Speriamo che Insomma Ce ne saranno sempre di più Dove? Dove? La vostra zona qual è? Noi veniamo da Ravenna Siamo vicino a Ravenna Quindi Romagna Infatti prima abbiamo riconosciuto La località Lugo Nel video dei ragazzi Che ci hanno preceduto Sì perché l'autostrada Passa proprio di lì Eh va bene Siamo Arrivo da Ravenna Sì Sì Per altri motivi E Beh Ci sono Ci sono le opportunità Per suonare Ma anche A volte un po' difficili Per un genere Magari Non così commerciale Come il nostro Però insomma Cerchiamo di fare Tutto il possibile Per C'è una grande cultura musicale A Ravenna Tra l'altro Sì Io conosco personalmente Il tastierista di Zucchero Che abita a Ravenna Sì Nico E devo dire che Non ho sentito La vostra musica Dunque non ne posso parlare Mi fido di Massimo Perché Massimo È È una sicurezza È come il Martini O come Ornella Vanoni È una sicurezza Giusto Eh Dunque Non so Che Un po' più sobrio Di Ornella Vanoni È È più Un po' più sobrio Era per il nome Siamo tremende Queste voce Grazie Vai avanti tu Qualche Sì ma perché C'è stato un'eccatombe Oggi Lui è ridotto Malissimo Questo ha perso Completamente la voce Io sto in piedi Per miracolo Però Come vedi Però siamo qua Siamo dei combattenti Siamo qua Mi chiedevo insomma Chiaramente le influenze Psichedeliche Dell'hard rock Anni 70 Sono Sono evidenti Si chiama Psichedeliche Adesso Io ho una Psichedelia Qua che non ti dico No mi chiedevo appunto Quanto fosse poi Importante per voi Anche la dimensione Delle gem No che Magari In Saletta Insomma Eseguite Quanto poi Questo Quest'importanza La riversate Anche nella Nella dimensione Di studio Sì no Le influenze Ci sono tutte Da Ipin Floyd Agli Hawkwind Ai Doors Poi noi Cerchiamo di metterci Del nostro Sono brani Non facili Diciamo Da ascoltare Subito Immediatamente Che ti entrino Subito in testa Sicuramente Ci vuole Qualche ascolto Però è un genere Un po' di nicchia Anche Qual è il vostro genere Scusate Hard rock Psicadelico Ok Così almeno Focalizziamo un pochino Le cose Perché Lì fino adesso Come non abbiamo Un supporto Per sapere Di che cosa si tratta Abbiamo video Se c'è il video Così capite Di cosa parliamo Lo facciamo partire Perfetto No 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti